La nuova Civic era molto attesa e è arrivata finalmente, decisamente più sportiva, frontale molto più impegnativo da questo punto di vista, passaruota allargati, fiancata più snella, coda anche quella più allargata e più capace. La macchina verrà venduta solamente a 5 porte, verrà fatta ancora la versione diesel, è previsto finalmente anche un diesel di 1600 cm3 invece del solito 2002 che forse era un po' troppo grosso per questo tipo di auto. Contrariamente all'ultima politica Honda però per questa vettura non saranno previste né la versione Type R, cioè la versione molto potente, quella che qui ci erano abituato gli ultimi modelli Honda, né le versioni ibride che a topare per ora non sono ancora previste.